Quando fumo in ascensore Bene, disse il dottor Rossetti, quando fumo in ascensore. Ti ha sorpreso la disponibilità del cardinale ad assumerti nella compagnia aerea? Veramente sì, dissi. In fin dei conti, per il cardinale sono un perfetto sconosciuto. No, davvero. Il cardinale si muove solo per il partito che controlla la compagnia aerea e la controlla per il 60%. Poi il presidente della compagnia è interessato a chi ti raccomanda, disse Rossetti, come chi ha capito tutto della vita. Col cardinale ho parlato di come vedono la vita in India, dove lui è stato nunzio apostolico a lungo e di molto altro. Mi è sembrato una persona evoluta. Anche lui è un politico, sentenziò Rossetti. Anche lui è un umano che ha raggiunto la sua evoluzione attraverso un'organizzazione umana. Sentenziai io. L'importante è che abbia raggiunto la sua evoluzione.